Per quali motivi? Per verificare le strutture ma soprattutto l'agibilità della sicurezza e la fattibilità di un servizio che a mio avviso deve essere più attinente a quelle che sono le esigenze operative del personale di polizia penitenziaria. Noi visitiamo gli istituti della Liguria, in questo specifico Imperie Sanremo, per stare vicino ai colleghi e soprattutto per spiegare ai colleghi quelli che sono gli accadimenti nazionali dopo la legge Madia che ha ridotto gli organici della polizia penitenziaria, gli organici nazionali, da 45.000 a 40.343. E quindi dobbiamo ridisegnare l'operatività secondo le esigenze, secondo gli uomini che oggi abbiamo. E chiaramente la politica penitenziaria oggi è una politica schizofrenica perché non riusciamo a capire bene il carcere dove vuole andare, continuano a somministrare un'idea di sorveglianza dinamica, cioè celle aperte. E in pratica con i rischi di sicurezza che sono aumentati tantissimo, gli eventi critici che sono aumentati tantissimo, e hanno lasciato i personali di polizia penitenziaria abbandonati a se stesso nelle sezioni detentive. Noi vogliamo che si faccia una diversificazione di quello che era il principio dell'attenuazione e della vigilanza statica. Vorremmo che la detenzione fosse premiale per colore che lo meritano, per pochi detenuti che meritano questo tipo di vigilanza. Però dobbiamo in tutte le carceri avere sempre le sezioni chiuse dove collocare tutti coloro che non meritano questa attenuazione della pena attraverso la vigilanza dinamica. Problematiche che poi saranno portate sul tavolo del governo? Sì, abbiamo incontrato proprio mercoledì il ministro, con il ministro abbiamo fatto il punto della sicurezza nazionale nelle carceri relativamente alla contaminazione islamica. Il rischio è proprio palese. Lasciando circolare liberamente i detenuti nelle sezioni, c'è il rischio che effettivamente i detenuti più deboli vengano contaminati e vengono avviati all'islamismo, al radicalismo islamico in carcere. Con grossi problemi. Il personale di polizia penitenziaria ha fatto dei corsi di aggiornamento e formazione nelle scuole per osservare e riferire se avvengono queste contaminazioni. Dopodiché l'amministrazione dovrebbe allontanare il soggetto che tende a radicalizzare gli altri. Non si possono fare le feste con i fichi secchi. Noi possiamo fare... Oggi stiamo spremendo terribilmente il personale, però quando le carenze organiche sono evidentissime, è difficile continuare a chiedere al personale di prestare servizio 8-9 ore per turno. Perché è veramente duro, ma noi dobbiamo, come sindacato sappe, battereci per garantire a tutti i colleghi quelli che sono i diritti soggettivi. Non è più possibile oggi dire facciamo il piano ferie, andiamo a proporre al personale 8-9 giorni di ferie durante il mese di agosto o poi il periodo estivo. Dobbiamo garantire, come tutti i cittadini italiani, i stessi diritti che hanno tutti quanti i cittadini. Non possiamo pensare di avere un cittadino di serie B, qual è la polizia penitenziaria, e poi gli altri cittadini che sono di serie A e hanno tutti i diritti garantiti. Come giustamente dovrebbe essere per tutti. Il segretario generale del SAP Donato Capece questa mattina di Imperia è stato accompagnato dal segretario regionale dello stesso sindacato Michele Lorenzo. Lorenzo ai nostri microfoni ha illustrato le problematiche delle strutture di pena di Imperia e Sanremo. Renzo, segretario regionale della Liguria, allora nel dettaglio come sono le nostre carceri, quelle di Imperia e Sanremo? La Liguria è in controtendenza con l'andamento nazionale, anche perché abbiamo subito un grosso smacco, io definisco così, la chiusura del carcere di Savona che ha comportato un aumento esponenziale di detenuti su Imperia. Questo ha portato a gestire i 48 poliziotti penitenziari attivi di Imperia, stanno gestendo 92-94 detenuti, che di per sé non è un elemento critico, è la tipologia di detenuti che oggi si sta cercando di gestire. Gli eventi critici sono tanti, azioni di autolesionismo e di salvaguardia alla pubblica incolumità, in cui il poliziotto va davanti. A tutto questo è ostacolato la nostra attività da un direttore assente. Qua non c'è il direttore, viene da Sanremo una o due volte alla settimana. Io stesso sono stato costretto a ricorrere a una commissione di garanzia per cercare di convincere la direzione ad avere un maggiore dialogo sindacale. Il dialogo sindacale è importantissimo, ciò che non capiscono i direttori, proprio per lenire e risolvere alcune problematiche interna. Quello che diceva il segretario generale prima sul servizio dinamico è sinonimo di una disorganizzazione. Noi abbiamo bisogno di organizzare Imperia, abbiamo bisogno di organizzare Sanremo. Ma le dico questo, su Sanremo che è successo proprio avanti ieri, le nostre scorte che accompagnano i detenuti presso l'ospedale per ricoveri, perché spesso sono detenuti psichiatrici, quindi che hanno un comportamento un po' anomalo, non hanno un posto dove posizionare il detenuto. Questo significa che il detenuto è in mezzo al cittadino. Per noi è un pericolo. Noi siamo una forza di polizia e dobbiamo risolvere il pericolo al cittadino. Quindi le sfaccettature negative sono tante, ma sono risolvibili. Non c'è la volontà a volerlo risolvere. E proseguono a Sanremo i servizi della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione disposta dal questore Leopoldo Laricchia, denominata Senza fretta, Senza tregua. Dostamani il questore ha illustrato i risultati raggiunti fino ad oggi. Il bilancio di tre mesi di Senza fretta, Senza tregua. Mai il crimine così basso dal 2006 a Sanremo. Durante il servizio sono stati perseguiti con l'arresto, la denuncia dei responsabili e con il sequestro della sostanza. 47 delitti in materia di stupefacenti a fronte dei 14 dell'analogo trimestre dello scorso anno. Nel comune di Sanremo il totale di tutti i reati commessi è diminuito del 21% con punte significative riguardo i furti in abitazione che calano del 51%. Un meno 40% per gli scippi, un altro meno 54% per furti di moto e scooter, meno 60% per rapine e meno 35% per ridaneggiamento. Signor questore, i dati presentati e confrontati con lo stesso periodo del 2005 sono impressionanti. E oggi abbiamo ritenuto opportuno divulgare a metà dell'operazione il riscontro, l'andamento della delittuosità sul comune di Sanremo perché sono dati oggettivi che sono non solo confortanti, direi addirittura impressionanti perché abbiamo un calo dei reati che non si era mai verificato negli ultimi 11 anni. Com'è la realtà sanremese rispetto alle altre località da lei conosciute? Sanremo è una città che ha le caratteristiche della città di villeggiatura, di divertimento, di commerciale, quindi potrebbe essere simile a città come Viareggio, come Rimini, Cesena, luoghi dove normalmente si concentrano le persone per rilassarsi. E purtroppo oltretutto anche una città che ha un bel clima, come altre città di quelle che ho citato. E quindi è chiaro che in queste realtà il problema della criminalità diffusa è un problema che negli ultimi decenni si è manifestato in modo pressante. Il rapporto con i cittadini? Il rapporto con i cittadini è la ragione del nostro lavoro. Per noi tutto ciò che viene fatto è studiato nell'ascolto dei cittadini e per dare risposte alla sicurezza dei cittadini onesti. Qual è il rapporto con le altre forze dell'ordine? Dunque il rapporto con le altre forze dell'ordine è un rapporto di massima collaborazione che ha un punto di coordinamento generale nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è presiduto dal prefetto della provincia. E dal punto di vista tecnico-operativo è un compito che la legge affida al questore e io cerco di svolgerlo nel modo migliore possibile. Noi non abbiamo messo in campo soltanto operazioni come ogni forza di polizia fa, soprattutto le due forze a competenza generale monocolore. ma abbiamo anche su Sanremo messo in campo operazioni coordinate, cioè decise in comitato ordine e sicurezza pubblica e coordinate tra tutte le forze di polizia. Mi riferisco a quell'operazione che voi avete chiamato Tega di Ragno che si è svolta nei primi giorni del mese di giugno e che mira appunto a creare una zona libera, una zona di massima sicurezza in concomitanza col grande afflusso di turisti in determinate giornate. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha varato ufficialmente la giunta che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Le deleghe sono state attribuite tenendo conto dei risultati elettorali di ciascuno. Vediamo. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha varato ufficialmente la giunta che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Le deleghe sono state attribuite tenendo conto dei risultati elettorali di ciascuno. Giacomo Chiappori tiene le deleghe a turismo, rapporti con le partecipate, riviera acqua, EGM, protezione civile e igiene urbana. Cristiano Zagaribaldi, vice sindaco, lavori pubblici, patrimonio, arredurbano, grandi opere, governo del territorio, edilizia urbanistica, cimiteri e polizia mortuaria. Luigi Basso, confermato assessore al bilancio, programmazione, tributi e finanziamenti, polizia municipale, verde e pubblico. Palo Navarro, segreteria, contratti, urpe e personale. Barbara Feltrin, commercio, artigianato e trasporti, contenzioso, ecologia, ambiente ed emanio. Al di fuori della giunta, Egno Pelazza sarà presidente del Consiglio e si occuperà di servizi sociali, sanità e istruzione. Veronica Brunazzi, di politica giovanile e sport, Davide Carpano, nominato capogruppo di Vivadiano, si occuperà di manifestazioni. E infine Bruno Manitta, di frazioni e agricoltura, che ha pure evidenziato che le deleghe sono state attribuiti in base al risultato elettorale, oltre a un uomo e una donna scelti su fiducia del sindaco. Manitta, nonostante i molti voti ottenuti, non sarà ingiunta almeno fino a quando non si sarà risolta la sua vicenda giudiziaria. Infine Domenico Surace sarà riconfermato alla guida della gestione municipale. A Ventimiglia prosegue l'emergenza migranti. Il sindaco Enrico Ioculano ha incontrato i senatori Donatella Albano del PD e Enrico Buemi del PSI. Ioculano ha chiesto di due parlamentari un intervento da parte dei competenti ministeri anche per la situazione relativa alla presenza di numerosi minori. Il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano ha incontrato i senatori Donatella Albano del PD e Enrico Buemi del PSI per chiedere nuovi interventi da parte dei competenti ministeri. Ioculano ha chiesto ai due parlamentari un intervento da parte dei competenti ministeri anche in riferimento alla situazione relativa alla presenza di numerosi minori. Attualmente il quartiere Ventimigliese delle Gianchette, con l'apporto della Chiesa, delle Associazioni e dei Volontari, sta portando avanti l'accoglienza dei migranti dopo l'annullamento del trasferimento degli stessi al Palaroia di Roverino e in attesa che venga individuata una soluzione alternativa. Questa mattina sono stati trasferiti alle Gianchette anche i moduli con servizi igienici che erano stati sistemati nell'ormai ex centro di accoglienza della stazione ferroviaria. I senatori Albano e Bueni hanno dichiarato che si faranno carico di riferire al Ministero la situazione dei minori. Ioculano ha inoltre chiesto agli uffici comunali di quantificare il peso smaltito dei rifiuti in seguito agli sgomberi e alle pulizie straordinarie relative alla presenza del frusso migrante per poi inviarla alla provincia e alle autorità competenti al fine di richiedere lo scomputo ai fini del calcolo delle percentuali di raccorta differenziata. Traffiche in tilte e lunghe code sono ormai la consuetudine all'imperio. È una situazione soprattutto legata alla chiusura dell'argine destro che provoca ogni giorno sempre maggiori proteste. Sentiamo. Sono ogni giorno di più le segnalazioni e le proteste che giungono alla nostra redazione che vengono anche postate sui social da cittadini imperiesi esasperati per il traffico e le lunghe code. Ormai soltanto per attraversare Oneglia in pratica a qualsiasi ora del giorno ci vogliono almeno 20 minuti. La situazione peggiora nettamente e i tempi si allungano in caso di pioggia. Sul banco degli imputati c'è principalmente la chiusura dell'argine destro a causa dei lavori per l'allacciamento della nuova strada collegata al raddoppio ferroviario. Il cronoprogramma prevede che l'argine destro resti chiuso fino alla fine di luglio ma dopo la situazione difficilmente potrà migliorare visto che una volta aperto l'argine destro dovrà essere ancora una volta chiuso per lo stesso motivo l'argine sinistro almeno fino a tutto settembre. Sul versante di Porto Maurizio invece il dito è puntato sulla chiusura di via Cascione peraltro destinata a diventare zona traffico limitato. Insomma Imperia per quanto riguarda il traffico si appresta a un'estate all'insegna del Calvario. Problemi di viabilità e carenza di parcheggi a Sanremo a fare il punto della situazione è stato l'assessore alla viabilità e lavori pubblici della città dei fiori Leandro Faraldi. Sentiamo. Per quanto riguarda i parcheggi a Sanremo che cosa cambia? Ma intanto prolungheremo i 45 minuti a parafiori all'infinito nel senso che abbiamo verificato che è possibile dare l'accessibilità al parafiori anche dopo che saranno terminati i lavori sulla viabilità ordinaria legati allo scolmatore di via San Francesco. I parcheggi, e lo vorrei ribadirlo, i parcheggi controllati con sbarre quindi lungomare Calvino e nuova stazione dei treni hanno la gratuità per la prima mezz'ora che rimane tale e rimarrà tale per sempre e abbiamo deciso di mantenere la tariffa di 1,20 euro sul lungomare Calvino anche per il periodo estivo in realtà all'interno delle sbarre costerà meno che fuori perché lì era previsto dal vecchio regolamento, dal regolamento vigente che invece fuori dalle sbarre sulla ex zona B1, il lungomare Calvino fuori dalle sbarre fosse la tariffa 1,50 euro e quella rimane così nel periodo estivo noi invece manteniamo e abbiamo abbassato quindi i 30 centesimi all'interno delle sbarre per quanto riguarda il resto stiamo cercando di riorganizzare anche i parcheggi bianchi cioè di dare una minor fruibilità in termini orari cioè invece che le due ore portarle a un'ora o a 45 minuti per dare maggior possibilità di fruizione a tutti in centro, soprattutto creeremo delle zone bianche in cui fare la piccola commissione lontano da Palafiori adesso è un problema perché non esistono le aziende vitivinicole ed agroalimentari del Basso Piemonte saranno coinvolte in un progetto per migliorare il proprio processo produttivo in individuare sprechi ed aree di miglioramento questo grazie ad un marchio che sarà presentato dalla Camera di Commercio di Cuneo vediamo la Camera di Commercio di Cuneo presso la sede di Alba organizza il 22 giugno a partire dalle ore 10 un incontro di presentazione del marchio Green Care schema di qualificazione per le aziende dei settori vitivinicolo e agroalimentare l'ente camerale cuneese ha infatti aderito al progetto promosso da Union Camere e dalla Dintec di qualificazione delle filiere del Made in Italy che utilizza la leva competitiva della qualificazione e della certificazione delle produzioni per sostenere il miglioramento delle performance aziendali le certificazioni sono uno strumento che le imprese possono utilizzare per qualificare le proprie modalità operative e le proprie produzioni sia sul mercato nazionale sia internazionale a sostegno della qualità del Made in Italy il marchio Green Care è un marchio comunitario registrato che può essere utilizzato tanto in Italia quanto negli altri paesi europei permette di individuare i processi critici del ciclo produttivo ovvero quelli con consumi elevati, presenza di sprechi o possibili margini di miglioramento obiettivo del progetto è di dare visibilità alle imprese che adottano sistemi e processi produttivi rispettosi dell'ambiente che si impegnano a tenere sotto controllo e ridurre i propri consumi con particolare riferimento a quelli idrici ed energetici L'imperiese Enrico Lupi è stato eletto all'unanimità vicepresidente della nuova Camera di Commercio Riviera di Liguria che unisce i territori di Imperia, Savone e La Spezia L'elezione di Lupi è giunta ieri nel corso di una riunione tenutasi alla Spezia nell'ottica della riorganizzazione delle aziende speciali camerali finalizzata al contenimento della spesa è stato nominato un CDA unico guidato appunto da Enrico Lupi di novità anche per il CDA dell'azienda speciale Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Antonio Fasolo è il nuovo presidente e subentra Paolo Calcagno mentre Gianfranco Croese prende il posto di Luciano Pasquale confermati gli altri componenti dell'organo di amministrazione Aldo Alberto, vicepresidente Massimo Rebelle e Paola Freccero E a quanto pare il clima all'interno del nuovo porto turistico di Imperia resta sembra abbastanza teso ieri infatti un fornitore che si occupa di servizi subacquei nel bacino si è scontrato verbalmente con un addetto della Go Imperia la società comunale che gestisce il porto a quanto sembra l'uomo avrebbe apostrofato il dipendente della società pubblica in modo pesante tanto che questo alla fine si è sentito male ed è stato necessario chiamare un'ambulanza per sottoporla ad una visita al pronto soccorso i vertici della Go Imperia hanno fatto sapere di aver informato dell'episodio le autorità competenti come si può comprendere la linea sottile di demarcazione che divide la corruzione, la turbativa d'aste e l'abuso d'ufficio a queste e a molte domande sul tema della legalità nelle imprese darà risposta un tour in quattro tappe promosso da Unione Camera Liguria e dall'alleanza delle cooperative che toccherà le quattro province riguri sarà alla Camera di Commercio di Genova martedì 21 giugno alle 8.45 alla Camera di Commercio delle Riviere sede della Spezia martedì 21 giugno alle 14.30 alla sede di Savona mercoledì 22 giugno alle 8.45 nella sede di Imperia mercoledì 22 giugno alle 14.30 al centro degli incontri la strategia comunitaria in tema di appalti pubblici e il nuovo codice degli appalti due dipendenti di un'officina nei pressi del parco commerciale di Taggia sono rimasti intossicati ieri sera per fortuna in modo non grave a quanto sembra i due lavoratori avrebbero respirato esalazioni provenienti da un serbatoio di diserbante ed hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso le autorità francesi a seguito di una frana hanno disposto alla chiusura della prosecuzione in Francia della statale 20 e del col di Tenda la frana è caduta la scorsa notte nei pressi di Fontani al momento non si sa quando l'arteria potrà riaprire attualmente dalla statale 20 sono quindi raggiungibili solo le località di Tenda e di San Dalmazzo di Tenda il sempre l'anno si ha fatto sapere che sulla strada statale Aurelia in direzione dei Bazzi Rossi a 20 miglia sarà istituito dal 19 al 24 giugno il senso unico alternato della circolazione nella Galleria Dogana il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento degli interventi rimesse in sicurezza all'interno della stessa galleria facciamo una breve paura tra poco grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti